Lucinio, ma che fanno questo? Dormono tutti di già? E ora dove si va? Che si fa? Ora si va a dormire. No, non va a dormire. Ma dai, io ho voglia di fare molte di cose. Eh, lo so, ma due o tre ore. Domattina si ricomincia. Non vede l'ora di ricominciare, Lucinio. Ci piace qui, eh? Sì, tanto. Che dire che non ci volevi venire. Oh, è vero, Lucinio, se io oggi sono un ragazzo veramente contento, il merito gli è tutto tuo. Non mi devi ringraziare. L'ho fatto col cuore. Anima grande. Lucinio. Il maestro ti voleva bocciare. L'ha detto a casa, l'ho sentito io. Ho detto che glielo boccio. Lo so, ma lo perdono. Anima grande. Buonanotte, amico mio. Buonanotte, amico mio. Ah, meno male che è finito. Si stanno trasformando in asili. E li dovete pagare bene, eh? Perché sono tutti di primo pelo. Freschi, freschi. Quelli già pronto. Lo compro io. Quanti ne vuoi quest'anno? Una cinquantina da fatica. E che reggono le frustate, eh? Reggono, reggono. Bello quello. È bello sì, quello. Quanti ne vuoi? Anch'io ne voglio una cinquantina. Ma quando li portiamo via? È una questione di minuti. E non ce ne sarebbe uno? Ci sono, ci sono. Ne abbiamo di tutti i tipi. Qui tutti i ragazzi si trasformano in asini. Prima le orecchie, poi la coda, poi... E-oh, e-oh! Come quello? Ma figlio sento! Guarda questo! Guarda che bel musetto! Che pensavate di diventare? Dottori! Professori! Tutti somari! Tutti somari!